Alberto Consoli, che cos'è per te la paura? In pista, zero paura. Ho dovuto fare questa strategia di gara, scappare avanti, perché gli avversari sono molto competitivi. Tu sai che in questo momento si riduce il distacco, ma attenzione perché Alberto Consoli è stato avvisato. Sì, un ottimo weekend. Quindi è stato un ottimo scooter. Consoli faceva il passo in compagnia di Sturniolo fino a metà gara, quando, con un cambio di ritmo repentino, si involava segnando il record della pista. Qui, in questo gruppo, vedo bene Consoli, perché non ha ancora fatto un sol passo e non si è ancora fatto vedere. Io penso che ha un qualcosa in più degli altri e aspetta la fine. Sì, sì, per me sì. È il momento nel quale conviene appunto tallonare piuttosto che essere il protagonista. Guarda chi ha vinto. Eccolo, sotto la bandiera scacchi arrivo. Alberto Consoli. Ho detto che se l'ha nascosto. Senti, hai parlato di arma vincente. Qual è stata l'arma vincente? Posso dire solamente il polso e il cervello. Non avere molta fretta. La bandiera scacchi è quella che conta. Si affianca in questo momento e quindi probabilmente la staccata è avanti. E attenzione perché è il corso del secondo e quindi scatta in questo momento la caccia nei confronti di Alex Ugrin. Tante le cadute, dai primi fino agli inseguitori impegnati alle loro spalle. Su tutti mattatore Alberto Consoli che portava a casa i due allori di giornata. Abbiamo fatto due gare con la pioggia. Ho trovato un avversario molto competitivo in questa pista. Abbiamo guerra apertissima fra Cirillo e Riccio. I due si stanno continuando a scambiare di posizione. Ne approfittiamo in qualche modo Alberto Consoli. Cerca di non far sfruttare la sua scia ai rivali che lo inseguono. Seguono e Consoli! Il messaggio da parte numero 222 Alberto Consoli. Grande chiara la sua nel finale. È arrivato lungo, attenzione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! I scuderi tutti ottimi e infatti ho fatto vedere una bella gara per tutti. Grazie, a dopo!